Domenica il Valle Soverato ospita il Cuno alla Palascoppa ed una delle novità sarà sicuramente il nuovo libero Giada Cecchetto che ha esordito già in maniera positiva domenica scorsa a Perugia, praticamente si è stata catapultata perché pronti via subito la partita adesso invece stai svolgendo la prima settimana di lavoro con le nuove compagni, quindi una prima impressione su questi primi giorni qui a Soverato Ciao a tutti, direi un'impressione molto positiva, le ragazze mi hanno accolto da subito molto bene già sabato quando sono arrivata ho iniziato a conoscerle, domenica ci siamo trovate bene in campo contro Perugia adesso stiamo lavorando, ovviamente dobbiamo ancora automatizzare alcuni meccanismi, ci vorrà un po' di tempo però ho trovato un ottimo gruppo e c'è tanto da lavorare ma so che insomma siamo ambiziosi e punteremo in alto quindi ce lo metteremo tutta Esordio Casalingo, domenica è subito un avversario difficile come Cuneo che è una delle candidate al salto di categoria quindi un impegno ostico ma al contempo stimolante per voi Assolutamente sì, sappiamo che Cuneo è un'ottima partita, un ottimo organico costruito per fare molto bene quindi non sarà una partita facile ma dovremo avere la pazienza punto dopo punto di difendere, contraattaccare, rigiocare ci la metteremo tutta, stiamo appunto lavorando molto bene, loro hanno un organico comunque interessante con atlete anche dell'A1 dell'anno scorso come ad esempio il palleggiatore, quindi sarà una bella battaglia Infine tu sei reduce dalla prima parte di stagione in A1 a Legnano, adesso hai scelto questa opportunità che ti si è presentata qui a Soverato comunque un ambiente che da avversario già conoscevi, una squadra che da tanti anni milita in questo campionato di A2 quindi uno stimolo ancora maggiore Sì assolutamente, ho cambiato categoria per scelta, ho voluto approfittare di questa opportunità che Soverato mi ha dato sono molto carica per far bene in questo finale di campionato, penso ci siano tutte le carte in regola per concludere al meglio questa stagione quindi vediamo di lavorare e mettere a frutto tutto ciò che facciamo ogni giorno Coach Barbieri, tre vittorie consecutive e domenica il Vole Soverato ospita il Palasco Pacune una partita importante sia per la classifica ma anche per la caratura dell'avversario con l'obiettivo di proseguire questa striscia positiva Certamente, veniamo da un buon momento perché tre vittorie direi anche molto pesanti perciò abbiamo recuperato un po' le energie dal Tour de Force di due mercoledì consecutivi perciò stiamo bene, sappiamo che incontriamo Cuneo che era la candidata numero uno per vincere il campionato perciò siamo consapevoli delle difficoltà però siamo convinti che visto soprattutto le ultime prestazioni possiamo comunque dire la nostra Domenica ci saranno diverse novità in campo da una parte e dall'altra si è chiuso adesso il mercato, ci sono state delle operazioni anche per il Soverato esordio casalingo per il nuovo libero cecchetto che aveva già giocato domenica a Perugia è arrivata notizia proprio di queste ore la nuova palleggiatrice Natalia Gaglierska la polacca dall'altra parte ci saranno anche dei volti nuovi Cafforio che era prima qui, Guidi che è stata acquisita da Brescia quindi sarà una partita tra virgolette un po' diversa rispetto a quella dell'andata Sì sicuramente noi ne avevamo assolutamente bisogno perché sicuramente anche in allenamento per la palleggiatrice cominciava a diventare un po' un problema perciò sono molto contento delle ragazze che sono arrivate sono contento che Giorgia Cafforio abbia trovato squadra così può andare avanti comunque a giocare questo mi fa sicuramente piacere Sì ci sono due squadre nuove, cioè due squadre nuove parzialmente nuove l'assetto rimane bene o male quello perché la Guidi comunque ha un po' le stesse caratteristiche di Bertone perciò bene o male questo non cambia molto noi abbiamo cercato di migliorare la nostra situazione siamo convinti di averlo fatto perché dobbiamo dire che pur Giada ha giocato solo una partita comunque si è inserita bene, ha cercato subito di portare quel giusto entusiasmo oggi facciamo il primo allenamento con Natalia o Natalia adesso vediamo come si parla a chiamare perciò siamo contenti ecco siamo contenti e siamo pronti per questo rush finale che poi ci porterà sicuramente ai playoff Presentiamo nel dettaglio a livello tecnico questo cuneo che sappiamo avere anche una guida tecnica nuova da poche settimane un allenatore come Pistola che conosce benissimo questa categoria una squadra che vanta degli elementi importanti che lei tra l'altro conosce molto bene quindi è una squadra che da tutti era accreditata ed è accreditata come una di quelle che può ambire al salto di categoria Sì, Dalia devo dire che la conosco bene l'ho avuta per tre anni perciò sono contento di ritrovarla sicuramente è una palesatrice che può fare la differenza e cambiare anche i valori di un match ecco questo lo sappiamo tutti, l'abbiamo vista, la stiamo studiando e siamo convinti di far bene come abbiamo fatto l'andata e poi loro sicuramente hanno una fase break molto importante con noi abbiamo sofferto un attimino la continuità del loro gioco soprattutto muro difesa con noi hanno fatto molto bene però come ho già detto la stiamo preparando come tutte le partite nel migliore dei modi